Ciao a tutti amici di o anche no, sono ancora positivo al covid ma sto molto meglio, sono stato molto fortunato e tra poco tornerò all'istudio con voi con Vincenzone, Gianluca, Silvia, Valerio, i miei fantastici maghi da cui posso imparare qualcosa e quindi non vedo l'ora perché da qui questo posso fare. Infatti oggi giocherò con te, anche con te, perché te defini sempre? Vieni qua, questo è un gioco fantastico solo con tre carte signori, oggi userò solo tre carte, un miracolo, tre carte, il gioco delle tre carte, facilissimo, abbiamo due carte nere e una rosa, quindi il gioco è... Trovare la rossa e non le nere. Ora attenzione, lo farò in modo un po' difficilino però magari, guarda, perché sennò, guarda, prendiamo la carta rossa, così la prendo, faccio questo, woop, tac, dov'è? Mischio, dov'è? 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 Qui? No, qui, bravissimo, esatto, chiaramente non era queste due, è questa qui. Ora prenderò il cappa e lo metterò in mezzo, questo è importante, in mezzo. Che è successo? Perché? Oh, che è? Che è arrivato qua? Che c'è? Eccolo qua. Eh, sì, no, perché... Adesso spiego, non lo so, però lo so, cioè nel senso, il gioco è tre carte, ma intendevo tre carte nere e una rossa, cioè il gioco è trovare la carta rossa in mezzo a tre nere, sennò sarebbe troppo facile, quindi sono quattro carte, ho iniziato un pochettino. E' facile, prendiamo la carta rossa e la mettiamo a faccia in su, perché a faccia in su? Perché almeno la ritroviamo, è perché ho visto che... Ah, facciamo così, quindi a sto punto l'unica carta è quella a faccia in su, andiamola a prendere, uno, due, tre e quattro, esatto, non è così, non è così, scusa, fammi... Ecco qua, quattro, quattro carte nere. C'è stato? No. Eh, come, come, perché? Ah, riempaia, che c'è qui? Eccola, in tasca era andata. Bene, perché il gioco è più difficile, più difficile, più difficile, useremo quattro carte così e una, mettiamo in mezzo così, pacchi, in mezzo così, quattro carte praticamente nere e una rossa, perché sennò sarebbe troppo facile, no? E così funziona. Prendo una carta di questa a caso, questa, la metto qua e dico due k. Infatti, questa era facile, non sta qua. Ecco qua, eccola qua, facilissimo, come quattro k, come quattro k. Sì, bravi, perché il gioco era quattro k e un dieci di fiori, bisogna capire dov'è il dieci di fiori, ho capito che glielo dico, io ho bisogno di Vincenzone, di Silvia, di Valerio e di Gianluca, io non gliela faccio a fai giochi, me, 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 non, ah, e se lo dico lo dico, e se no, 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 ciao.